Start, two, one, initial mission and liftoff! Erano le 5.51. Dopo una notte passata tra una scazzottata e una gamba rotta, mi ritrovavo sotto il luogo di lavoro della vittima. Un anonimo mi lasciò un biglietto in casa. Trova, Onni. Lo trovai, morto. Un foro di proiettile. Qualcuno aveva messo mano alla sua cassaforte. Gli aveva rubato tutto. Iniziai a unire i pezzi, fino ad arrivare qui. Sulla mia tabella di marcia c'era anche l'indagine su una sua misteriosa chiamata ricevuta, ma scelsi di venire prima qui, nel suo ufficio. Ciao a tutti, e ora che ho la vostra attenzione, stiamo parlando di un bellissimo, grandissimo gioco, davvero molto, molto intrigante. Il suo nome è Shadows of Doubt. Ho freddo. Vedete? Questo è un investigativo e ve lo dico subito, mi metto subito al caldo, così evitiamo di morire. Ve lo dico subito, potrebbe essere un gioco di cui parleremo a fine dell'anno, nella lista dei migliori giochi di quest'anno. Ve lo dico senza problemi. Allora, praticamente è un investigativo sandbox, dove noi saremo in grado di fare esattamente qualsiasi cosa noi vogliamo, perché l'interazione con questo mondo è assolutamente massima. Ora, il gioco è abbastanza, diciamo, non dico guidato, però ci fornisce gli strumenti di cui abbiamo bisogno, come ad esempio questa mappa, che comunque ci indica dove andare quando noi pianifichiamo una destinazione. Ma ora andiamo con calma e vi mostro tutto. La grafica è ovviamente in boxed, è in early access, e ve lo dico subito, senza farci giri di parole, è in inglese, completamente in inglese. Quindi non c'è modo, cioè se non conoscete un H d'inglese non lo guarderete. Ma è un peccato, perché potrebbe essere un buon motivo per comunque imparare nuove parole, nuovi termini, perché è un gioco veramente incredibile. Che cosa succede? Praticamente noi abbiamo una serie di... Vabbè, questo è il nostro pannello del nostro investigatore, con quattro slot inventario e la possibilità di interagire con appunto i pugni, quindi fare pugni, i soldi, l'orologio che abbiamo visto prima e il print scanner. Quindi noi possiamo andare ad esempio a scannerizzare e vedere se ci sono impronte e analizzarle. Ogni cosa che noi andiamo a analizzare nel mondo, che possono essere documenti o impronte, direttore che troviamo, vedete qua abbiamo trovato qualcosa, una impronta digitale di tipo C. Se io premo il tasto destro, questa me la mette nel catalogo delle prove. Però non sappiamo a chi appartiene. Quindi noi sappiamo che questo è il luogo di lavoro della nostra vittima. Vi faccio vedere il tabellone con tutte le cose che ho trovato. Questo è il tutorial e poi si comincerà una partita sandbox e viene generata tutta la città, tutti i cittadini, tutto il loro luogo di lavoro, gli oggetti, le informazioni di ognuno di essi. Quindi questa è una delle cose più interessanti. Noi sappiamo che Onni, Johnson e questo, vengono messe insieme tutte le informazioni che abbiamo, quindi abbiamo le sue impronte digitali come prova, insomma. Quindi nel fare un match, un confronto, avremo le sue impronte. E ogni cittadino ha un'impronta univoca, quindi solo sua. Non sappiamo ancora la data di nascita, ci mancano ancora tante informazioni, non abbiamo l'altezza ma sappiamo che è basso. Un uomo, corporatura larga, cappelli, vabbè li sappiamo, marroni, castani, occhi blu, vabbè misura delle scarpe 5, portavo occhiali, sì, non aveva barba, non sappiamo un gruppo sanguigno, sappiamo che abitava l'802 di Rose Building. Pensate che mi sono rotto una gamba appunto perché io sono entrato in casa sua, ho dovuto scassinare la telecamera perché se no mi beccavano, sono dovuto entrare, mi ricordo se dalle condutture, sono entrato lì a un certo punto qualcuno è entrato in casa, quindi sono dovuto nascondermi, mi sono dovuto nascondere, sono dovuto fuggire nei condutti dell'aria, sono finito nell'appartamento di un altro tizio che in quel momento stava uscendo, mi ha chiuso dentro, allora sono rientrato nei tubi, sono finito in un altro appartamento, quello mi ha beccato, ha iniziato a prendermi a pugno in strada e alla fine l'ho steso ma mi ha ridotto male, sto sanguinando e ho una gamba rotta, ho smesso di sanguinare in realtà perché non c'è più in alto a sinistra il simbolino del sangue ma ho un osso rotto. Praticamente adesso qua abbiamo, vedete io adesso qui non ho la minima idea di come fare ad entrare, ci sono molteplici modi per entrare in genere, ci sono tutti i sistemi di allarmi, posso scassinare la porta, fare il lock picking usando i lucchetti, posso trovare un'alternativa entrando magari nei bagni, trovo qualcosa che fa saltare magari i fusibili, fa saltare la corrente, insomma io comunque qua dentro devo entrare alla Goldborn Technology perché devo indagare su quello che lui probabilmente aveva trovato e se noi andiamo qua nelle prove è tutto connesso, poi vabbè posso scollegarli, però sappiamo che Onni e lui aveva un contatto di impiego tra Onni e Johnson e Burner Technology, possiamo trovare anche un nome, il nome del proprietario, quindi andare ad indagare su chi fosse lui, andare a trovarlo a casa, seguirlo, scoprire se faceva qualcosa, abbiamo trovato questo elenco in casa sua con tutte queste persone su cui dovremmo comunque indagare perché dobbiamo trovare una soluzione al caso e capire cosa gli è successo e chi lo ha ucciso, abbiamo il work ID, abbiamo appunto il suo beige che però non ci permetterà probabilmente di entrare, questo è il foro, 8 mm e 9 x 32 è il proiettile che abbiamo scoperto esaminando il corpo e qua vediamo che lui lavora qui dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì, queste sono le informazioni che abbiamo, questo è quello che abbiamo trovato nella sua spazzatura, il contratto l'abbiamo già visto e abbiamo un sacco di cose, un sacco di note anche, remember the passcode 1428 e quindi dobbiamo trovare il modo di entrare qui dentro, ovviamente andiamo con calma e cerchiamo di capire, vedete che uguale io posso fare il lockpicking, scusate, se ne serve un notare, devo trovare il modo di entrare, ok, per aprirlo l'abbiamo aperto, però c'è il problema che lì dentro vedete che c'è questa macchinetta qui che fa la scansione di tutto l'ambiente, potrebbe beccarci, devo trovare il modo di danneggiare, vedete che perché se entriamo diventiamo intrusi, vedete che c'è trespassing, quello è un antincendio, sembrerebbe e il gioco ovviamente non ci guiderà come sta facendo in questo momento perché non è solo il tutorial questo e ci sta dando tutte le indicazioni che sono molto utili, trace the red wire, quindi praticamente devo seguire il filo rosso, ma non capisco dove va il filo rosso perché o che entra qui, sì, probabilmente sì, vediamo se riesco a scassinare questo, devo scassinare il lucchetto, consumiamo tot numero di lockpick ogni volta, posso spegnere, spengo tutto, cazzo allora, forse è ancora, perché? come da un punto di domanda, come mai, perché devo entrare anche di qua, poi posso accendere la torcia, e vedete ci sono anche i computer navigabili qui, quindi posso andare ad accenderlo e usarlo e cercare di capire, sempre cercando di non farmi beccare, di disattivare qualcosa di interessante, select user, management 1428, eh no, non ho le informazioni giuste, blueprint, posso aprire tutti i cassetti che voglio, cioè posso andare a scoprire paperclip che mi serve perché diventano dei lockpick in automatico, apriamogli la scrivania e vediamo se dentro c'è qualche password, ma questo sembra essere appunto l'ufficio della sicurezza, ovviamente essendo in lingua inglese non è proprio facilissimo, vedete qua c'è un condotto dell'aria, non è facilissimo, ma niente di proibitivo, perché al massimo mettete in pausa e guardate, insomma, il gioco vi fornisce con questo, con l'elenco delle note che potete aggiungere voi, questi sono i dischi di aggiornamento, devo ancora capire esattamente cosa servono, l'esame appunto del tacquino con tutte le prove, gli aiuti in gioco, i passcode che abbiamo trovato, i numeri di telefono, perché possiamo anche chiamare, chiedere a dei servizi informativi quali sono le ultime chiamate effettuate e ricevute, alarm switch, trigger alarm, sabotage, vediamo se riusciamo a scassinarlo, intanto abbiamo anche la taglia, in alto a sinistra, di 300 crediti, nel caso in cui ci dovessero beccare, ok, credo abbiamo scassinato, ma non capisco perché funziona, funziona tutto ancora, non capisco il motivo, ah, l'icebreaker, ok, abbiamo spento tutto, tecnicamente, sistema di sicurezza, tutto disattivo, ah no, questo no, ok, ok, adesso è tutto disattivo, quindi tecnicamente, però questo funziona ancora, non so, il motivo, e ci hanno visto, mannaggia, 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 posso saltare, salire sopra, e andare a manomettere, varie cose, ma non capisco il motivo, vedete qui c'è il condotto dell'aria, ma non capisco il motivo per cui non, ecco, non prendetela come una cosa che mi sta irritando, perché a me piace tantissimo, tra l'altro, è andato tipo già in emergenza, il corretore qui, perché si è chiusa, si è chiusa la porta blindata qui, quindi, probabilmente qualcuno verrà a prenderci, ricaricherò, ve lo dico già, perché, perché poi, adesso, a parte che è notte, quindi non c'è niente, guarda se si piove fuori, ma in realtà, la gente ha la sua, ha la propria routine, quindi, eppure è stranissimo, perché funziona ancora tutto, e non so perché, questo non ho capito, se è una mitagliatrice, o un sistema d'allarme, comunque in ogni caso, possiamo, sederci, passare del tempo, o raccogliere, in questo caso, non credo di poterlo raccogliere, ma in alcuni casi, si possono prendere degli oggetti, e modificarlo, e, scuscurate, e metterli sotto, per poter andare, andare su, e vediamo, se si può fare qualcosa, io adesso lo mollo qui, put down, ci posso salire sopra, ma non mi cambia, una fava, qua non posso fare nulla, e vedete qua, ci sono le telecamere, che mi vedono, e, probabilmente, è quel sistema là, che è un problema, perché qui, dovrei tagliare il filo, e ovviamente, anche qui, è importante avere, gli oggetti giusti, perché quando voi siete, che so, nella stazione di polizia, avete modo di acquistare, degli oggetti, che possono essere importanti, come ad esempio, gli oggetti per tagliare i cavi, per analizzare gli allarmi, rompere le password, quindi, è tutto, tutto fatto, in questo modo qui, pensate a questo gioco, gli sviluppatori, non mi hanno filato minimamente, ma lo sono comprato, perché, lo voglio, è un, un gran gioco, paperclip, ok, qua cosa abbiamo, crediti, che è una cosa, vabbè, siamo degli investigatori, noir, ma, rubiamo lo stesso, ma sapete cosa vi dico, io entro qua, faccio, entra, vediamo se c'è modo di, ok, ovviamente, il tutorial, ce lo dice chiaramente, che, alcune, delle piste, perché nel, nel tutorial, è tutto, un po' più facilitato, perché ci viene data, la scelta multipla, di quale pista seguire, e tante sono piste morte, quindi, possiamo anche sbagliare, insomma, comunque, ci stiamo infilando, in un vicolo cieco, io, in realtà, adesso, lo faccio per amore, di azione, ma, in realtà, io agirei in modo diverso, e indagherei prima, su molte altre cose, comunque, qua sotto, siamo, non so dove, sicuramente, ci beccano, c'è, questo, non so dove sono, non so in che, non so in che piano sono, ho già visto la telecamera, eh, ciao, ci hanno beccato, infatti, ci hanno beccato, va bene, ricarichiamo la partita, e vediamo, fin dove aveva salvato, così, che, ci facciamo un'idea, il gioco, ovviamente, soffre di bug, ancora, è crashato una volta, sta crashando, forse ancora, ogni tanto, va in, so, ma niente, che non, non possano risolvere, diciamo, con le patch, no, in realtà, funziona, però, mi è capitato, un crash, fino adesso, comunque, il gioco ha dei bug, è, eh, iper stratificato, quindi, capolavoro, secondo me, è un capolavoro, ovviamente, tanto da leggere in inglese, sono, ovviamente, ecco, ripartiamo da qui, che questo è, dovrebbe essere, vedete, ecco, questo, è una semplificazione del tutorial, cioè, possiamo disattivarli, possiamo dire, investiga al diner, diner, dove abbiamo dei dati, possiamo investigare, le chiamate, che ha, il, questo tizio, effettuato, o ricevuto, che vi dicevo prima, investigare l'ufficio, e quindi, ci manda, là, e ad esempio, noi non abbiamo, sappiamo che lavora, in quel posto là, Quindi, io posso andare, a parte che c'è il locker, vi faccio vedere, possiamo comprare, vedete, le manette, i solchi per le porte, il lockpick, il codebreaker, e così via, e così via, noi possiamo andare, a prendere, se lo trovo, eccolo qua, il telefono, e leggiamo nella guida, andiamo sulla G, vedete che c'è la Goldborn Technologies, e qua possiamo tracciare, il percorso, o, provare a telefonargli, potrebbe essere, una buona scelta, anche questa, no? no, perché, vediamo, vediamo se si può telefonare, all'azienda, ma non credo, Stabs, ok, adesso abbiamo, sott'occhio quello, no, perché poi, voi potete andare, a telefonare, digitando il numero, digitando, cosa che, questo numero qui, ci costa un credito, e ci fa vedere, le ultime chiamate, effettuate, da, da questo telefono, ma non serve, Job Listing, vedete, stiamo esaminando prove, che poi vanno, nelle nostre elenco di prove, possiamo accettare, anche delle missioni, in questo caso, dobbiamo fare delle foto, quindi richiede, delle abilità in fotografia, possiamo accettare, fare delle foto dei tizi, quindi seguirli, ma noi stiamo, stiamo facendo tutt'altro, vedete la natura sandbox, di questo titolo, che possiamo andare, a fare veramente, quello che vogliamo, interpretando, veramente, un investigatore, noir, ma io credo, che qua sia anche, un mio computer, credo, cioè, la libertà, è assolutamente totale, abbiamo, la possibilità, di aprire una nuova lavagna, quindi, di mettere insieme, più informazioni, però vedete, è tutto abbastanza schematico, però, le cose con cui possiamo interagire, sono veramente tantissime, non è un gioco per tutti, come vi ho detto, perché comunque ci sono dei dialoghi, è tutto in inglese, non è eccessivamente complicato, una volta che conoscete comunque, i termini che si usano normalmente qui, il mondo, è un mondo, insomma, abbastanza messo male, nel senso, c'è l'inquinamento, le città, vengono costruite su delle isole, perché l'oceano, comunque, si è espanso, quindi, c'è questo espediente, delle isole, quindi, vengono generate proceduralmente, e in questo caso, vedete che la mappa, è molto, molto schematica, è fatta in questo modo, e abbiamo tutti gli appartamenti, che possiamo andare a vedere, per strada, trovate anche dei loschi figuri, che vi chiedono di pagare, se no, vi accoltellano, ci sono un sacco di persone, vedete, talk to, possiamo chiedergli informazioni, su, se abbiamo sentito qualcosa di strano, questa sera, rispondono, insomma, ovviamente, non è un gioco, dove, ci sono dei gran chiacchieroni, perché, non lo è mai stato, questo, il genere in sé, entriamo in questo bar, vedete, possiamo metterci qui, oppure ordinare qualcosa, vorrei acquistare qualcosa, vorrei una ciambella, grazie, il mio inventario è pieno, ok, questo rompe un po', il ritmo, ma va bene, se mi sedesse, possiamo vedere il giornale, oppure, possiamo andare a sederci, e guardare il menù, e qua possiamo andare, che so, a spia a qualcuno, cioè, ce la possiamo vivere, come se fossimo veramente, tipo, non ci corre dietro nessuno, ci mettiamo qui, in medesimazione, andiamo a ipotizzare, questo vedete il percorso, per raggiungere l'ufficio, e iniziamo a mettere insieme le parole, perché? Perché poi, nella stazione di polizia, dove eravamo prima, io ero andato a prendere un modulo, il modulo è questo, e quindi qua possiamo, mettere il nome e cognome, scrivendolo noi, del colpevole, o selezionarlo in base alle prove che abbiamo, abbiamo la possibilità di arrestarlo, abbiamo le prove, dobbiamo selezionare le prove, mettere dove vive, c'è più cose mettiamo, più soldi prendiamo, e poi risolviamo il caso, chiudiamo il caso, e finisce lì, insomma, è un gioco di cui parlano tutti, ah, stava venendo da noi, no, no, è un cliente, non viene nessuno da noi, dobbiamo, beh, possiamo sederci, cosa posso portarti, no, sei gentile, però io, in realtà, devo investire, ci sono, posso entrare anche nelle zone private, dove non, non potrei entrare, posso bussare, qualcuno sta arrivando a, ad aprire la porta, va bene, andiamo in bagno, e vediamo se c'è qualcuno, non ci sono le armi da fuoco, a quanto ho capito, le hanno tolte, perché mi andava un po' in, in crisi il gioco, perché ovviamente, se vi rimettete a sparare, ma ovviamente, non è un gioco dove dovete far così, però, mi piacerebbe magari, che lo, li raggiungessero, insomma, comunque, se voi ne sapete più di me, nel senso che io non ne so molto, e volete parlare di questo gioco, lasciatemi un commento qua sotto, ditemi quello che ne pensate, se l'avete provato, io lo trovo assolutamente incredibile, ed è un gioco che, quando faremo la lista dei giochi di fine anno, questo sarà sicuramente in lista, perché, lo dico già in anticipo, perché già, lo osservavo da tempo, e me lo sono comprato, l'ho pagato su Instant, ve lo dico senza problemi, perché, ho pagato 13 euro, quindi se vi va, qua sotto nei commenti, scusate, nella descrizione del video, trovate il link, se volete aiutare il canale, insomma, lo potete prendere, più o meno 13, 14 euro, il prezzo scilla, qui, su quelle cifre lì, un altro diner, qua, un po' messo peggio, e, lo trovate, 13, 14, anziché 20 euro, che è il suo prezzo intero, ragazzi, io con questo vi saluto, e vi mando un prossimo video gameplay, alla prossima, e ciao ciao!